Certo, il mio mestiere è quello, cercare di segnare, ogni volta che ci sono delle opportunità io devo approfittare, sono l'attacante, la referenza di questa squadra, quindi vorrei sempre calciare, poi decide il mister e basta, però oggi me ne vado contento perché questa squadra ha ripreso una grande partita in un campo difficile, sempre con una squadra tosta come il Parma, quindi è un punto che ci porta bene. Sì, guarda, sicuramente ce ne sono tante cose da migliorare e per noi deve essere importante di non continuare a fare questi errori, poi nel secondo tempo abbiamo fatto una grande partita dove abbiamo preso il possesso palla, dove abbiamo giocato e si è proposto il gioco noi, quindi bisogna migliorare, però ci siamo sulla strada giusta. Ancora non ho parlato con la società, manco con il mio procuratore, ho detto che fino all'ultimo momento vorrei sempre essere concentrato sul campionato, dopo se in questi giorni succede qualcosa dovrei saberlo perché ancora non mi hanno detto nulla. Guarda, io dovrei sempre ringraziare alla società, al direttore Lomonaco, sempre ha messo fiducia in me, ci si è sempre creduto, quindi dovrei ringraziarlo a lui, poi alla città di Catania non ce ne sono parole, ci ho fatto nascere un figlio lì, quindi è parte del mio cuore, quindi sono solo parole di ringraziamento a tutti per quello che mi hanno dato. Poi il calcio è strano, può succedere qualsiasi cosa, può essere che rimanga pure a Catania o no, sicuramente saprò i prossimi giorni, però io sono contento e felicissimo di aver potuto fare questa avventura a Catania. Io farò il Natale a Catania, quindi sicuramente sarò vicino a tutti i catanesi. Grazie.